Siamo? Allora, salve a tutti, vi propongo ciao, vi propongo un'occasione di felicità quando il 30 e 31 marzo andiamo nelle piazze dove ci saranno i fantastici volontari dell'Unitalsi lo sapete meglio di me, l'Unitalsi è sempre a fianco di chi soffre e allora qual è l'occasione di felicità? Fare del bene, si va in piazza, si trovano gli amici dell'Unitalsi compriamo queste fantastiche piantine, sosteniamo l'Unitalsi che poi sarà sempre più vicina a chi soffre lo sapete meglio di me con i viaggi all'Urdi, i pellegrinaggi e allora felicità per tutti, 30 e 31 marzo delle piazze insieme all'Unitalsi, vi aspettiamo, ciao!